Morti bianche, l'impegno di Italia dei Valori in Calabria. Impegno massimo che sono già sostanziato con l'approvazione del regolamento che è frutto di nostre battaglie, una legge che era rimasta al palo per due anni, l'aggiunta che è stata incalzata da Italia dei Valori con le varie interpellanze e le iniziative che hanno prodotto un regolamento che finalmente darà benefici alle famiglie delle vittime, quindi dei morti sui luoghi del lavoro. Vittime che in Calabria hanno avuto un'impennata con un più 95% nell'ultimo bianche, quindi un dato allarmante, quindi da ciò si ottende un'azione che deve essere derivata dalla prevenzione sui luoghi del lavoro e questo ricordo anche la legge che il Consiglio regionale ha approvato qualche settimana fa, sostanziata anche da nostri emendamenti che hanno corroborato questi aspetti con l'introduzione per gli appalti regionali e degli enti subregionali del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a dispetto del massimo ribasso. L'Italia dei Valori si sta impegnando da tempo per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per ripristinare anche le sanzioni che il ministro Sacconi aveva sostanzialmente ridotto in modo significativo. Quello che ci spiace è che il ministro Fornero ancora ieri nella commissione infortuni abbia detto che gli infortuni sul lavoro non sono una priorità di questo governo e quindi temo che dovremo aspettare la prossima legislatura per apportare migliorie all'attuale legislazione. Grazie a tutti!